Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Primo report metagame TCG post-bunded Sì, è uscito dopo qualche tempo però Giusto il tempo di mettere le liste e vedere quanti deck ci fossero Non fatemi ingannare da questa prima schermata Che si alterna tra Snake Eye e Fire King Ma ci sono tanti deck, quindi tranquilli Prima di iniziare, come sempre ragazzi mi invito a scrivere il nostro canale Prima di sempre aggiornate, ricordo che le iscrizioni ci da una mano non considerevole di più Io vi ringrazio, detto ciò Allora, Dublino possiamo vedere la varietà di mazzi Qui abbiamo un Snake Eye, quindi ora lo vediamo subito Snake Eye normale, cioè puro Triplo Acid, doppio Popolo, doppio Popolo, doppio Popolo, bene Vabbè, Flamberg, Hook, Strighetta, Fenriri, Tutto HT, Bonfire, vabbè Sappiamo che questa è la lista Più o meno sappiamo che questa è la lista Un antispel, un rivalità di signore quella di Side Che ci possono stare Intanto chiudo Poi, qui, anche qui tanta varietà No, in realtà vincete in PAI, però non abbiamo la lista Ma ne abbiamo gli altri E anche qui Snake Eye, che va a giocare a Triple Acid, doppio Flamberga, doppio Popolus, Mono, Popolus Pompato Che anche qui, insomma, comunque rimane molto molto classica la cosa Un 3x di Ogre di Side, anche può essere utile Ebbene, questa tecnologia è molto utile Nel senso, vediamo in anteprima in modo che magari Tot e Dec uguali li saltiamo E qui c'è tanta roba Qui c'è tanta roba Perché vince Castira, poi Snegai, Yubel, Labyrinth, Snegai, Snegai, Castira e Senturon Quindi andiamo a vedere un attimino Non vorrei spoilerare niente Quando Ok Vediamoli Allora It's all Castira, nella sua versione Semplice lineare, però ti devo dire Perché pure l'HT gioca In gioca quelle Shifter, quando ti puoi permettere Shifter Devi giocare sempre Ashe, Valer, Impermanence Birth Poi la Terreno, ovviamente La Pressured E poi Capito? La Magia Normale Castira Numero 76 Normalmente l'abbiamo già vista Però io non me la ricordo Ok Molto bene Carta molto molto buona Considerevole Considerevole dimensione Assolutamente Pallegrave Keeper Ogni tanto utilizzato Ogni tanto no E va bene Poi Diabelle Star Snake Eye Con il Jet Synchro Allora La build più famosa Era con il Jet Synchro A giocare Di Spater E Omega Sostanzialmente si giocano Questi due Poi il numero di volte In cui si viene fatto In realtà Non vi so dire L'ultima volta Era stato un rate Veramente basso Però Se si giocano sempre Loro due Vuol dire Che comunque Parti di Spater Comunque buono Ma anche Psy Framelord Però Devo un attimo capire Se sostanzialmente Avete visto Che ho chiamato Fondamentalmente Sostanzialmente Le mie parole magiche Se È effettivamente Comunque Utile Utilizzarle Perché Insomma Magari Shell Eye Viene utilizzata Ma non lo giochi mai Yubel Yubel La prima build Nuova di Yubel Che non Ci sorprende Più di tanto Perché Sapevamo Che Poteva essere così Triplo trono Sicuro Doppio squirmer Quindi Non lo sapevamo Triplo spirito Yubel Yubel Quello normale E terrone Incarnato Triplo super poli E ok Qualche Qualche treno Qualche cannone Treno Potentissimo Il Varudras Fondamentale Qui dentro Yubel Loving defender Forever Garura Vabbè Ma dragon Repartan chain E gli altri Link Con Un Jizuguru Che effettivamente Non è Non è male Possiamo sempre Sfruttarlo Cambiare idea Cosa che sai Dimension barrier E E I Bistial Decide Yubel Ormai Non è più Economico Comunque Questo è schizzato Tontissimo Direi Purtroppo Yubel Non è più Economico Poi quando Si raffanta Ma che Vodica Fa Labyrinth Labyrinth Ok Sì Sempre Comunque C'è la versione Quelli piccolini E la versione Senza piccolini Sta iniziando a giocare Enicmaster Packbit Che quando Scegli io Lo dissi Comunque Che non era male Come carta Anche se è stata Molto 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 Sottovolta Vediamo Se troverà Spazio Full force Virus Fortissimo Stavo Vedendo un attimo La side Fortissimo Questi due Al momento Sono i più forti Che puoi utilizzare Lei perché Vabbè Sostanzialmente Generico Lui perché Ti butta giù Tutto Snagai Quasi Quindi Labyrinth Mi hanno utilizzato Solo di side Phantasmade E Sky Bryson Con labyrinth Big welcome 3 3 3 3 Tutto 3 Per A eccezione Il terrore Ok Sì Gradesco Tanto Anche Dogmatica Vanishment Perché comunque C'hai target Da mandare Al cimitero Insomma Non è male Anche chimera Anche chimera Vabbè È molto buono Molto buono Ok Vabbè Fai specialino Di demon Molto buono Molto buono No ma nel cimitero Rimuovi Fai specialino Che bello Che mostro Che è uscito Qui Poi Castira Castira Di bellestar Snagai E vabbè Errateo Questo qui Già sincro Sempre con loro Dove hanno utilizzato Triple unicore E mono Fenrir Sto vedendo Un attimino Eh Allora Fenrir Non lo per Diciamo Me l'aspettavo In un rato Un pochino Più alto Però Però Non è male Sostanzialmente Cioè Ti prendi anche Cascita di Roberto Magari fai unicore Cascita di Roberto Ti prendi Fenrir Cioè Evo che Fenrir Tu lo prendi Ti devo dire Poi un'opera Di curicata Che ci sta Va bene Va bene Ecco Questo invece Ha fatto 2 e 2 Ecco 2 e 2 Ok Però vabbè Dipende tutto Da come viene utilizzato E come viene giocato E come è Il pensiero Del giocatore Che dici Yugi è un gioco Meccanico Eh Si e no Perché Devi essere bravo Comunque A pensarla Ovvio C'hai quelle Cose che sono Meccaniche Combo Meccaniche Ma poi Devi essere anche bravo A sfruttarle bene Insomma Cioè Quando uno riparte Deve capire Come ripartire Questo gioco Pit Cavaliere Non ho sempre Apprezzato Pit Cavaliere Comunque 2 e 2 Di Unicorn E Fenrir E vabbè Riparto HT Va in base A quello Che uno Pensa di trovare Cioè Si sa Che cosa Potenzialmente Si va a trovare Però insomma Perché molti Giocano ogre Molti la giocano Di side Quindi Insomma Poi ancora Cache Tira Hitsoul Anche questo Vabbè Molto simile A quello che abbiamo Visto prima Solo che cambiano Molto Il ratio Di Di Ht E non giocava Allo Scareclo Cache Tira Cache Tira Ogre Cache Tira Ogre In realtà Mi piace Particolarmente Non è una Garta Per niente Malaccio Poi Burt Vabbè Cache Tassorida So Simpaticissimo E E va bene E va bene Centurion Vediamo Centurion Perché io Avevo visto Lui Se vi hanno Giunto la Mano Accessore Della pescata Può evocarla Specialmente Fino a tre volte Per turno Possiamo aumentare O diminuire Il livello Di questa carta Di uno Una volta Per catena Se uno Se uno Se uno Possiamo Modellare Il livello Il che Può essere Buono A parte Già col fatto Che te lo Addi Comunque Tu fai Bonfire Puoi darti Sia lui Sia lei Scusate E sia lui E lui Si evoca Come cosa Come il Popus Quindi va bene Spellcaster Leggo lui Con i Whitewoods Mamma mia Eh Sono forti Qui 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 Cosette Lì Poi Stand up Centurion Va bene Stand up Bones Wake up Centurion Uno per Si Ci può stare Uno per Vediamo se Magari Poi ne troviamo Altri C'è un lato Maggiore Gargoyle Pure Perché tanto Lui Sostanzialmente Si può Riciclare Quindi Si auto Ricicla Va bene Uno per Uno per Un bombo Combo Potentissimo Lui qui Dentro Fortissimo E va bene Come vedete Diceo Ogre Cioè Non ha messi Due Uno Di side Perché Non si sa mai Nella vita Gravity Controller È una Soluzione Che può Essere Carina In realtà Non è male Anche perché Comunque Un link Uno Anche se Devi utilizzare Una carta Nella zona Mostri Extra Se ne frega Ok Poi abbiamo Il gas Borug Vediamo qui Lo snake Eye E il melodiosa Molto Molto Curioso Quindi Andiamo a Vedere Allora Mix Importante Mix Importante Perché Va a Mischiare Troppa Robba È Troppo Mixato Troppo Mixato Perché Poi vedo Uno Uno Due Vabbè Triple Ash Mono Flamberg Populus Snega Di Apelle Starock Tripla Strega C'è C'è Syncro Cacetira Fenrir Unicorno Magician Solo Uno Per Druish Worm Due Per DLHT Con Uno Per Di Gosbell Vealer One Faire Wanted Sinfo Spoils Terreno Birth L'ho letta Prima Non me La Ricordo Pressured Forbidden Drop Traformare TTTTT One For One In Permanence Col Solo Unico Syncro Pack Beat Pack Beat Che va Bene Qui Va Bene Perché Comunque Insomma Va A giocare Con Le Beh Effettivamente Eldridge Potrebbe Essere Una Soluzione Forte Perché Comunque Pure Senza Le Sue Carte Ed Può Essere Un 3005 3008 Quasi Indistruttibile Quasi Che Però Manda Roba Via Fa Target Però La Manda Al Cimitero Quindi Va Bene Triple Cross Out Design Sempre Apprezzabile Vabbè Una Soluzione Interessante Con L'Eldridge Mai Nella Vita Me Lo Sare Aspettato Melodiosa Eccoci qua Col Big Bang Super Powerful Deck E Non Me Ricordavo E costasse Così Tanto È Il Momento Di Comprare Dei Pacchetti Dei Nuovi Sfidanti Vai Ne Dico La Licerchi Perché Mi Sa Che Si Alza Adesso Melodiosa Melodiosa Che Fa Engine Anche In Voice Voice Che Abbiamo Visto Perché Fa Delle Cose Assurde Anche Perché Ti Fai La Fusione Con Lei Poi Cioè Ne Mandi Due Al Cimitero Le Rievochi Le Metti Nella Zona Pen Fa Un Sacco De Roba Sozza Quindi Ottimo Con Solo L'engine Con Tutta Melodiosa Diventa Un'altra Solfa Perché Comunque Tu Puoi Avere Tutta La Roba Che Viene Ti Pari Tantissimo Questo Ti Fa Fare Fusione Questo E Specialmente Trattiamo Melodiosa Cambiamo Posizione Battaglia In Melodiosi Avogati Special Non Si Rompono Nell'effetto Le Carte E Guarda Un T300 E Già Lì Va Bene Tutti Vabbè I Fatavano 500 Di Attacco In Difesa Non Può Essere Targettato O Distrutto In Battaglia Quindi Sostanzialmente C'è Due Protezioni Enormi Va Bene Poi Vabbè L'Araldo Che Rotto L'Araldo È Rottissimo E Hai Ostinato Che Pure Questo È Fortissimo Perché Ti Fa Fare La Fusione Mandando I Materiali Dalla Mano E O Deck C'è Tutta Roba Che Ti Manda La Roba Dal Deck Per Per Me È Rottissimo Veramente Molto 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 Forte E Poi Ti Fa Fare Un'altra Evocazione Speciale Quando Me Le Mando Dal Cimitero Quindi E Poi Va Bene Fa Gli Effetti Attivati In Melodiosa Fusione Non Possono Essere Negati Quindi Per Me È Una Roba Veramente Assurda Questa Carta Se Viene Evocata Ne Evocata Ne Nel Deck Se Viene Nel Cimitero Fai Ne Evocata Specialmente Una Difesa E Poi Ti Puoi Permettere Un'eggetta Importante Come Lo Dice Vortex Che Non È Male Tutte Le Melodiose Insomma Pure Lei Che Ci Consente Di Fare Un'interruzione Importante Quindi Melodiosa Un Mazzo Veramente Forte L'hanno Detto 250 Figuriamoci Che C'è Little Knight Quindi Il Mazzo Perde 100 Euro Di Di Costo Quasi E Vi Devo Dire 120 Perché Questa Mua È Schizzata Tantissimo Magari C'è TTT Che Potrebbe Costicchiare Un'antichietta Alla Prosperity Però Il Mazzetto È Fattibilissimo Ed È Forte Anche Perché Fondamentalmente Sono tutte Carte Reperibilissime Reperibilissime Quindi Tanta Tanta Roba Questo Arrivato Top 8 Poi Questo L'abbiamo Visto Adesso C'è Un bel Po Di Roba Melodiosa E Secondo Lo Vediamo Quest'altro Profile Voice Despia Skystryker Unchained Purtroppo No Purtroppo È Bello Bello Corposo Questo Meta Game Report Allora Riporto Maggio Troppo Praticamente Quella Quell'altro Quasi Cambiano Le Magari Il Ratio Di Qualche Melodiosa Però Quello Va Anche A Sensazione Cioè Va Anche A Come Si Fa Il Mazzo Le Quindi Non Puoi Fare Roba Oppure Una Carta Lo Menziona Però Non Per Aggiungere L'agente Non Ti Aggiunge L'agente Però Ti Levi Le Carte Dal Terreno E Spacchi Uno Link Generico Che In realtà Può Essere Molto Buono Quindi Secondo Me Non È Male Come Carta Ci Può Stare Una Soluzione Interessante SP E Typhoon Questo Costa Veramente Di Più Perché Comunque C'è Typhoon C'è SP Ci sta Trust Quindi Ok Però Il mazzo Rimane Molto Valido Branded Voice With Voice Con Cash Tira Che Da Un Po Di Farz Però Vabbè Abbiamo Visto Che Da Noi C'è Questa Versione Qui E Vorrei Vedere Magari Se Si Può Mettere Anche Con Melodiosa Tutti Conti Insieme Appassionatamente Branded Despia Nella Sua Versione Classicissima La Combo Lock Sky Striker Sky Striker Che Forse Con Battle Legend Ne Arriverà Qualcosa Di Nuovo Bisogna Vedere Se La Mettono Lì Qualche Carta Però Insomma Allora Sky Striker Roos Raie Tutte HT Storm Rota Questa Che Mi sta Veramente Sul Cazzo Coll Engage Trust Triple Tattiche Afterburners Triplo Linkage Ok Triple Lei Mono 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 Triplo Troplet In Permanence E Vabbè Poi Reparto Extra Deck Va bene Ecco Quelle carte Che dovrebbero Arrivare Secondo me Gli danno Un boost Importante Sky Striker Bisogna Vedere Perché Comunque C'è Il piccolino Ti Cala Dal Mazzo E Link Quello Grosso Che Può Fare Board Wipe Grosso Link 2 O 3 Mi pare Con 2005 Quindi Bisogna Vedere Al momento Può Fare Qualcosina Ma Secondo Me Ancora Rimarrà Fuori Fuori Quota C'è Lo Potremmo Vedere Però Non A Livelli Altissimi Unchained Unchained Che Torna Torna Nella Sua Versione Da Sola Con I DD Che Fa E Cavato Di Potenza Un bel Po Ovvio Uno Poi Lo Può Anche Giocare Con Yuper Prima Magari Era Meglio Perché Comunque Tre Charvara Erano Erano Importanti Tre Charvara Comunque Si può Ancora Utilizzare Con Il Maginex Va Bene Va Bene Vediamo Se Comunque Ancende Riuscirà A Fare Un po' Più Riusciamo A Vederlo Un po' Più Spesso Poi Abbiamo Purely Spellbook Fireking E Voiceless Voice Con Firekings The Guy Flore Anderis Dico C'è Stavano Lì Allora Purely Mazzo Che Comunque Vedrà Il suo Prezzo Crollare Tantissimo Triple Purely Purely Lili Beer Wash Veler Ghost Mourner Delice Memory Sleepy Memory Pretty Memory Happy Memory Vabbè Sostanzialmente Tutto in 3x Tanto è quello che non possono stare in 3x Fondamentalmente è quello E Un E Mono Purely Yep Che potrebbe essere Buono Insomma Ok Buono Perché comunque c'è anche Modo per non farti Tk Con il livello 1 C'è con Il fucio Qui Quindi Va bene Quindi c'è anche modo di proteggerti Contro Appunto Tempai Ghost Runic Spellbook Allora Proprio all'osso Proprio all'osso Ridotto proprio Tutte magie Tutte magie Allora Jowen Spiritualist E ok E poi abbiamo Il Magician Of Prophecy Fondana Ghost Shot Che effettivamente Ghost Che ormai non usano Per otticappare Fatemi capire Eh sì Se hai 10 o più materiali Vinci il duello Che non è male Non è male Non è Guarda Come ci siamo Ridotti E' incredibile Eh ti devo dire Questo non è male Quando controlliamo L'altro Ghost Che non potrà Che Staccato Gli attacchi Siamo materiali Sul terreno Quell'attacco E' minore Attacco Combinate Ghost Trick E se lo facciamo E lo spacca E quella zona Non può essere utilizzata No stavo vedendo Mi ero saltato un pezzo Armored K Questo Non me lo ricordo manco Fidissimo però E' il K Quello là Normale Magna mila Attacco e difesa Non ti imbatto Step Guarda Si attacca Il colvolce I mostri Possiamo scartare una carta Non può essere Sotto in battaglia Non prendiamo Dalla da battaglia Con questo effetto Non è alta Per duello Vabbè Ti para Dall'essere ottikappato Va bene E poi vabbè F0 F0 Ok Uuu Grandissimo Il Gendo Per installare Molto molto Forte Il Gendo Per installare Ok Sembra carino Come mazzo Anche se sembra Una roba Veramente Zozza Ok Questo ti ricicla roba Oppure banda Ok O copre Vai Spare book of judgment Sembra una cosa Veramente Zozza Sembra una cosa Veramente Zozza Ti ammazzo Veramente Che ti slada Che ti kappa Però Non so perché Non so perché Va bene Vabbè Fireking Sempre ridotto All'osso Cioè Ridotto all'osso Per il quantitativo Di fireking Che c'è dentro Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 Manco Si potrebbe Chiamare Fireking Quasi Però va bene Poi abbiamo Voiceless Voice Con il pendulum Graffo Questa è la versione Pura Abbiamo visto Che comunque La versione Pura Zitta Zitta Ha vinto Il poesies In Giappone Quindi Tanta roba E abbiamo Il vedos Che ormai Il vedo Sta diventando Una soluzione Sempre più Sfruttata Sempre più Utilizzata Quindi Può essere Una carta Molto Molto forte Tra l'altro Costicchia Un bel po Quindi L'unica carta Di ascent Che costa Poi Fort Worth WCQ Con Fireking Yubel Despia Snake Eye Magari lo vediamo qui Vediamo qui Velocemente Snake Eye Perché comunque Lo sappiamo E viene utilizzato Parecchio Questo Questo gioca Agli Araldino Gioca l'Araldino Come mostro Come mostro Sincro Magari lo andiamo A vedere un attimo Ok Poi Fireking Il lascio delle anime Ormai non si gioca Manco più Il lascio delle anime Però Gioca Triple Radiance Che ci piace Non gioca Nessun mostro X-Ease Addirittura E va bene Uncente Yubel È una versione Che è un po' Più Conosciuta Diciamo Che si va Non c'è Si va a mischiare Con Yubel Giocano Matur Chronicle Che può essere Un pochino pesante Perché effettivamente Devi mettergli Counter Però c'è anche uno Insomma E mettiamo Che uno Yubel Dal cimitero Aggiungi una carta Bandita Con due Tre Bandisce una carta Dal deck Quattro Spacchi una carta Tutterreno Cinque Aggiungi Lo super poli Con phantom Forse può essere Anche buono Perché comunque Puoi bandirti Una carta Dal deck Per poi Rimettertela Nel mazzo Branded Despia Mamma mia Collimpo Ovviamente Che gli da un po' Più di Di turbo Rebellestar Cascita Snake Eye Che gioca Un Pasolomino Ne ho mostro A differenti livelli Se un mostro Ve ne riguarda Specialmente Scoperto La zona puntata Da questa carta Mentre non Tendiamo Questo mostro Certo Tra la tua Davage Possiamo Di creare Il livello Tra 1 e 8 Il mostro In quel livello Fino alla fine Il turno Possiamo Tra i due mostri Con lo stesso livello Ognuno Da un terreno E li spacchiamo E beh non è male Azzo Azzo Pè Azzo Pè Forte E l'araldino E l'araldino Che tra l'altro Potresti anche utilizzartelo Perché comunque Col fatto che moduli Il livello Insomma Magari fai diventare Un livello 1 Un livello 3 O anche lui Ci vuole far diventare Livello 3 Insomma L'araldino Non è male Sia perché Quando va al cimitero Però vabbè Il cimitero Qua adesso Non ti serve a niente Però cacchio Nega Nega tanto Quindi Buono Buono Ottima soluzione Ok Qui abbiamo Il tempai dragon Tempai dragon Andiamo a vedere Assolutamente Tempai Vediamo Allora Sì Ok Il tempai In tcg È molto simile A quello cg Gioca 3-3-2 Pistial Magnamut Lo giocano tutti a 1 Reparto ht Con triple Vr Ash Nibiru Rotazione Del set Che Ci sta Assolutamente Poi c'è Il Weaver The Rats Will Ma anche questo Era giocatissimo Ma con Set rotation Poi anche metterlo Sul Terreno Dell'hop Al limite E settarti Questo qui Sengai Kaiman È tutta roba Per andare a secondo C'è già fart Mind control Prosperity Forbidden Tra l'altro Questo qua È buono Perché comunque Non può attaccare Ma lo utilizzi Addirittura Come materiale Sincro Al limite Quindi va bene Poi vabbè L'extra Lo sapevamo Con Bistia di spader Va bene Samurai destroyer Striker dragon Ok Ripartino Link Shifter Santa Gloss Bistial Heatwave E Cosmic Sire Vabbè Ci sta Sappiamo Che il mazzo Poteva essere così Un mazzo Che Relativamente Econo Lui Quanto stanno Un Poo Coggiude Va bene Sarajevo Tierlamens Voiceless Voices 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 Rescues Modanim Voiceless Voices E Orkust Bologna C'è soltanto Yuvel Che gioca Anche Un incubo Finale Sempre Anche Con la Con la Continua Swear Polling Ripartino Unchained E va bene Cambia soltanto Gioca pure L'incubo Finale Che ti devo Dire L'incubo Finale Non manco Mi ricordo Che cosa Fa Scusate No Ok Poi Abbiamo Click Open Con Tenpai Che vince Snake Eye Despia Buster Blader Addirittura Tenpai Vediamo Ok Va bene Gioca al Triple Crossout Molto Forte Crossout Lui Beh Ti devo Dire Anche Perché Tragettiamo La carta All'interno La spacchiamo Quindi Pure con C C'ha Qua Dove Può essere Forte Perché comunque Ti fa il Sincro In battle Projector Viene Utilitato Tantissimo Wapgate Ok Ci sta E non ci sta Ci sono delle liste Che non giocano E delle liste Che non giocano Quindi va bene Che belle star Snake Eye Brand Despia Horus Bistial Buster Blader Buster Blader Che c'ha comunque Quella mezza specie Di lock Con lui Era E Sì Revolgendo La persona Può evocare Specialmente I mostri L'extra tech Va bene Abbiamo il triple Buster Whelp Che ti fa Da Dino Assolutamente Tributi E evochi Buster Blader Ok A Dino A Dino L'extender Buster Buster Destruction Swear Master Che in realtà Buster Blader Con il tempone Che prende Piede In realtà È veramente Forte Anche col fatto Che comunque Lui mi pare Che rendeva Tutti i draghi Sì È veramente Interessante Anche per bloccare Determinati Tipi di deck Al limite Ma vi devo dire Un Buster Blader Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Anche perché Cononus Comunque Prende Quel Un po' Di Di Verb In Bistial Comunque Sempre Una soluzione Molto apprezzata E poi sono Comunque draghi Quindi ottimo Black metal Dragon Che fa Anche da Equip Però ti prende Una red die Una carta red dice Insomma Non è male Poi a livello 1 Insomma Potenzialmente Potrebbe giocarci Anche qualcosa Per non farsi Atticappare Però vabbè Lui in realtà Lui che otticappa Poi vabbè Ovviamente Il protector Vabbè Questo mi piace Ma a me Questo piace Un fottico Il Buster Blader Dragon Destroy Swarman Vabbè Rottissimo Proprio Rottissimo Bello Mi piace Come mazzo Mi piace Veramente tanto Come mazzo Anche perché A meno Si può prendere Un po' Di mazzo For fun D'artri tempi Ovviamente Con le Dovute carte Viene mixato Bene Però Cavolo Bello Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Bello Buster Blader Poi 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 abbiamo Vabbè Cash Tira Fire King Cash Tira Magari Qui andiamo Veloci Perché in modo che Tanto non ne abbiamo visti tanti Poi abbiamo Despia Che vince Anche qui Comunque Despia Rimane Nella sua Versione Gioca Quello Il Boresold Fusione Che non è male Come carta Poi Unique Fire King Despia Tempai Cash Tira Questo Tempai Dragon Molto Economico Lo andiamo Assolutamente A vedere Cioè anche Gola Drago Ecco Gola Drago Era una Soluzione Che non mi sarei Mai aspettato Di vedere Però la Utilizzano Come carta Terreno In più Per rotazione Del set Destrudo Ok Destrudo Va bene Perché comunque È un'altra Carta Che ti si Evoca Sostanzialmente Un Tuner In più Quindi Va Molto Bene In realtà Destrudo Come Carta E Negro Alla Diretta Drago Con Gimeru Che Apprezzo La Con Gimeru L'ho Apprezzo Tantissimo It Wave Questa Che cos'è Simul Archifend Questo Nessun Giocatore Può Evocare Specialmente Mostri Con Lo stesso Tipo Che Già Controllo Ok Se Controllare Due Più Carte Lo stesso Tipo Tutti Rituali Fusion Syncrix E Link Che Controlliamo Nel 500 Ma Può Essere Interessante Perché Comunque Va A Bloccare Un po' Di Carte Che Possono Essere Evocate Va A Bloccare Magari Dei Potenziali Link Che Ti Fanno Fare Extender Anche Quindi Va Bene Come Carta Per Installare Un Attimino Se Parti Primo Fa Dimensione La Barri Ok Molto Carino Mi Piace Come Mazzo Poi Abbiamo Orkust Orkust Lo Vediamo Voiceless Voice Oppure Questo Nella Sua Versione Pure In realtà Quindi Già Sappiamo Come Va A Giocare Vediamo Questo Sky Striker Orkust Va A Giocare Ovviamente Triple Kirsu Doppia Orkust Nightmare Triple Ovviamente Arpa Symbol Skeleton Vabbè Il rato Dei Mostri Sostanzialmente È Quello Solo Che Cambia Che Ce Ne Mettono Due Di Questi Un Arbageddon È Un Dark Grafer Con Le Magie Sky Striker Che Ti Vanno A Fare Un Pochino Da Anche Riciclocarti Sostanzialmente Perché In Gage Insomma Ti Consente Di Prenderti Un Sacco Di Roba Quindi Va Bene In Modo Di Pescare Di Negare Ce L'hai Quindi Potrebbe Essere Un Mazzo Interessante Anche La Magico Spring Mistaken Arrest E Grave Of The Super Ancient Organism Pure Questo Molto Forte Perché Insomma Va A Bloccare Anche Tempai Perché Quelli Gross Va A Bloccare Tempai Grossi Parigi Despia Oppure Rifar King Snag 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 Poi Ci Abbiamo Vediamo Rapidamente Questi Perché Ciao Sono Cash Tira Despia Yubel Unchained Yubel Si è Insinuato Perfettamente Questo Gioca Anche Ripartino Shadow Shadow Beast Quello Di Fuoco Snake Eye Voiceless Voice Credo L'unico Tire Lament Che Abbiamo Visto Tempai Sprite E Per Concludere Qui Abbiamo Snake Eye Lo Vediamo Anche Questo Qui Al Volo Perché Insomma Fire King Spero Di Vedere Quella Princess Al Più Presto Black Wing Di Vedere Quella Princess Più Presto Più Che Altro Perché Almeno Il Mazzo Inizia A Magari A Diventare Un po Più Puro Tempai Gon Shifter Tempai Gon Shifter Di Main Non Lo So Perché Il Syncro Te Li Fai Però Diventa Fa Top 4 Però Non Puoi Andarti A Rievocare Quelli Dal Cimitero Quindi Boh Zagash Tira Fenrir Tutte HT E Vabbè Le altre carte Non lo so Forse Non mi piace Moltissimo Il fatto Di Giocare Shifter Però Se L'ha Giocato Vuol dire Che Di Main Va Bene Come Soluzione Però Pu Al Limito Te lo Puoi Anche Togliere Con Droplet Però Non Vi So Dire Non Vi So Dire Cyber Sprite Addirittura Cyber Sprite Con Lamp Che Non È Male Cart Cyber Gadget Che Ti Fa Scombare Con Livelli Due Molto Buono E Ti Fa Il Token Livello Due Che Non È Per Niente Malaccio Per Farci Link Assolutamente Quindi Va Molto Molto Bene Numero Due Forte A Wism Gigantic Il Fatto Di Quasi Forte C'è Tanti Livelli Due C'è Tanti Extender C'è Modo Di Negare Tante Ripartenze Un bel Mazzo Un bel Mazzo Veramente E Per concludere Abbiamo Il Bistial Blackwing Che Abbiamo Visto Non Bistial Non Era Male Assolutamente Il Bistial Prende Qualcosina Di Più Molto Di Più Perché Comunque Sono Mostri Che Siamo Troppo Facilmente Levano Roba Loppo Vabbè Con le carte Magia Che C'ha Blackwing Insomma Non è per niente Male Contare Anche Su Chaos Angel Di Spider Vabbè Con Super Poly Pure Il Mazzo Diventa Abbastanza Importante Anche Perché C'ha Degli Effetti Che Sono Una Volta Per Turno Quindi C'è Questa Che Ti Fa Addini Contigui C'è In Modo Di Evocarle Specialmente Anche Quindi Non Male Anche Assault Sì Mi pare Questo Caramone Tanta Tanta Roba Detto Questo Ragazzi Abbiamo Visto Qualche Nuovo Sprazzo Di Meta Qualche Carta Nuova Qualche Mazzo Nuovo Si è Andato Subito A Inserire Come Tempare Melodiosa Bene 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 Vediamo Vediamo Come Si Evolverà In Futuro Questo È Stato Lungo Perché C'erano Tanti Mazzi Dovevamo Parlare Un Pochino Di Un Po Di Detto Questo Ragazzi Fatemi Sapere Voi Cosa Pensate Ovviamente Noi Come Sempre Ci Vediamo In Un Prossimo Video E Un Saluto A Tutti